Radio U, solo quelle belle. Come l'inchiostro dal Monte Feltro, la zona di Urbino, facciamo un elettropop cantautoriale. Giorgio Gaber, Fabrizio De Andrè, Franco Battiato, Max Gazze, e Giorgio Gaber, troppo da sogno, Fabrizio De Andrè anche, mi piacerebbe fare qualcosa con Caparezza. Facevo folk prima di addentrarmi nel mondo dell'elettropop, e facevo folk in dialetto, comasco, di un catautore che si chiama Davide Vandesfros. E è capitato una volta che, siccome noi praticamente Vandesfros, nelle Marche non lo conosceva nessuno, insomma, molta gente era convinta che fossero pezzi nostri. Quando è andata a Sanremo con Ianez, le persone sono venute a dirmi che c'è uno che è andato a fare Sanremo con i tuoi pezzi. E invece era il contrario. Saluto Radio Wii, solo quelle belle, e non disperate, la vita è bella.